Comunicazione di servizio, Gaboman è atteso in cassa, perché mo' ha fatto il coso del... Attenzione, attraverso il Cagliari Attenzione, perché per poco non la butta dentro Allora, come al solito, c'è sempre qualcosa, ciao e vi ritrovati Ma vogliamo di una cosa, vogliamo lanciare una petizione per far tornare il Cag-Ata Perché C-A-T, C-A-T, se può vedere, se può guardare Stava di Cagata Atalanta, Cagliari Atalanta Ragazzi miei, ovviamente serie A, Monday Night, siamo sul punteggio di 0-1 per l'Atalanta Monday Night di quelli potenti, esagerati Ma nel momento in cui abbiamo avviato, c'era il plin plin plin, quello che diceva quanti minuti di recupero E niente, è arrivata la traversa del Cagliari Cagliari, però nel frattempo bestemmia male Comunque, diciamo che la 90 ha fatto di più Cagliari non era mai arrivato al tiro in porta C'è arrivata un paio di volte La partita è stata equilibrata Tu perché sei tornato dalla palestra e non l'hai vista nel complesso È stata abbastanza equilibrata Ecco appunto, volevo fare una figura di merda No vabbè, non l'ho vista Sei entrato tre volte a cazzo dai fuori Giusto per dire, ma che stanno a fare? Ritornava in sé vestiva E girava per casa un cerno del volo Ha capito, ma me sto a lavare Ha capito, una volta che sei lavato mettite le ste mutande Ho capito, ma vabbè Anche perché se ritira, con sto freddo se ritira poi scompare Ma detto questo ragazzi miei Con questi tre punti, stavo a pensare a quello che devo dire L'Atalanta si iscrive ufficialmente alla corsa per il quarto posto Gli iscrive ai terroristi Si iscrive ai terroristi Si iscrive alla corsa per il quarto posto Perché ormai ci sono ufficialmente quattro squadri in un solo punto Dille, dille, ho detto mannaggia Milan a 36 al quarto posto Atalanta quinta in questo momento a 35 Perché c'è una differenza di migliore sia della Roma Che della Lazio Sia la Roma che la Lazio Esatto, guadagna tre posizioni in una botta sola praticamente Però stiamo tutti a 35 punti appagliate al quinto posto Diciamo così Anche se la differenza Redi Finisse il campionato farebbe la differenza Se proprio vogliamo includere anche la Sampdoria È a quota 33 Quindi ci sono 5 squadre in 3 punti Se proprio vuoi includere mettici pure la Sampdoria a 31 Siamo a capito, arriviamo a Sassuolo a 31 Dai, no Secondo me sì Perché comunque i punti sono pochi L'Atalanta mi sembra la squadra Che gioca con più tranquillità Quella forse più in forma tra Roma, Milan e Lazio Chi lo sa Cioè se proprio vuoi fare come dici tu C'è stanno 9 squadre in 6 punti Esatto Dal Milan al Parma L'ho detto nel video del post partita della Lazio Precedente a questo Se non l'avete visto andatela a vedere Ma detto questo Secondo te L'Atalanta arrivata a sto punto C'ha possibilità ipotetiche della Champions League Da in quarto posto Che sarebbe clamorosissimo Sarebbe davvero clamoroso Soprattutto per come era partita l'Atalanta in campionato Che non era partita affatto bene Però a questo punto ti dico di sì Che ce la può fare Per il semplice fatto che C'ha un gioco che ormai Vedo bello rodato Bello collaudato E giocatori molto molto in forma Che forse forse Giocano con tranquillità Secondo me è quella la differenza C'hanno Stanno meglio decisamente di Roma Milan Lazio Che c'hanno molte più aspettative I tifosi si incazzano molto De più se non arrivano i risultati Se andiamo a guardare C'hanno gli stessi punti Ma qual è la differenza? La piazza La piazza è differente Con l'Atalanta Te puoi permettere Loro possono anche permettere Se ti arriva a dodicesimi Decimi Non dico che non gliene frega un cazzo Perché comunque è sempre bello Arriva in posizioni alte Però la tifoseria non reagisce Come reagisce una Roma Non reagisce come reagisce un Milan Un'ipotetica Lazio E via dicendo Che comunque Essendo squadre che giocano Un po' più in alto Ovviamente c'hanno qualche aspettativa In più Però Non pregrediamoci Grattiamoci le palle Per chi ti fa Roma Per chi ti fa Lazio Perché questi zitti zitti Ce lo buttano Tra le chiappe Il cosiddetto effetto cetriolo Potrebbe arrivare Sì Probabilmente Probabilmente Tra i dieci litiganti L'undicesima gode Mi piace Commentare Petizione Cagata Vogliamo che torni Cagata Questa partita Nel primo tempo è stata Una Cagata Nel secondo tempo Poi abbiamo cominciato A vedere il gioco Ma resta sempre Cagata Quindi Alla prossima Ciao